Guardate cosa ho qui com'è, un air fryer, un frigiditrice all'aria, direttamente un bel pensiero dal mio socio, che lo ringrazio tantissimo. Guardate, apriamo. Guardate, ragazzi, wow, c'è tutta l'istruzione, se non sbaglio. Tiro fuori, wow, bellissimo, della tognana, vedete, guarda la luce che è, spengo la luce, così riuscite a vedere. Guardate, bene, apriamo dentro, vediamo com'è. Oh, la luce è la air fryer, frigiditrice all'aria, questo è un riasso, ok? this is a air fryer it gives to me from my father in law, he gave it to me because he knows I don't have so I'm so glad ok on my next video, I'm going to show you how to prepare chicken chicken with this air fryer and french fries chips ok I told you that in the next video I will show you how to prepare the chicken and the fried potatoes with this air fryer ok in the next video ok thank you beautiful however beautiful you see beautiful it's very beautiful I love it I love it so much I love it bye thank you I love it I love it I love it